Buongiorno ragazzi, oggi parleremo sempre di fisica e parleremo degli errori, i tipi di errori e la loro propagazione, gli errori calcolati con le misure dirette e con le misure indirette. Buona visione! Nello scorso video abbiamo visto come si definisce e si scrive la misura. Rivediamo subito la formula x è uguale a xm più o meno delta x u di m dove xm è il valore della grandezza misurata, delta x è l'incertezza e u di m è l'unità di misura usata. A questo punto possiamo definire i tipi di errore per poi poter fare degli esercizi utilizzando la scrittura della misura. Possiamo vedere che ci sono due tipi di errori. Il primo caso è l'errore casuale o accidentale. Si definiscono errori casuali o accidentali quegli errori che influenzano la misura della grandezza ora per eccesso ora per difetto in maniera del tutto casuale. Quindi che cosa significa? Facciamo subito un esempio. Ad esempio se misuriamo diverse volte con un cronometro un pendolo e calcoliamo il tempo che ci mette a percorrere il suo periodo possiamo sbagliare casualmente o per eccesso per difetto. Cioè potremmo partire una frazione di secondo dopo nell'accensione del cronometro o potremmo ogni tanto in un'altra misurazione schiacciare una frazione di secondo prima lo spegnimento del cronometro. Otteniamo quindi tra le varie misurazioni delle misure che sono sbagliate per eccesso e delle misure sbagliate per difetto. Facciamo ora delle osservazioni. I motivi per avere degli errori casuali possono ad esempio essere tre. Può essere l'intervento dell'operatore come stavamo dicendo un errore umano nel prendere la misurazione. Può essere una condizione ambientale della misura, un cambio di temperatura, di pressione, l'umidità che quindi non mi permette di rilevare una misura corretta oppure anche le condizioni operative proprio dello strumento. Quindi un malfunzionamento di qualche cosa. Vediamo ora un secondo tipo di errore che si può verificare nel prendere le misurazioni. Sono gli errori sistematici. Questi sono quegli errori che influenzano la misurazione soltanto in un modo. Quindi per esempio potrebbero essere misurazioni sempre prese per eccesso oppure sempre prese per difetto. Facciamo anche qui un esempio. Se noi consideriamo ad esempio un orologio che non funziona bene, un orologio che va avanti, possiamo prendere diverse misurazioni. Avremo tutte misurazioni errate per eccesso. Anche qui facciamo delle osservazioni. Elenchiamo alcune tra le cause per avere errori sistematici. Prima possibilità. Utilizzo degli strumenti in condizioni diverse da quelle per cui sono state fabbricate. Una seconda causa potrebbe essere l'interferenza dello strumento con il tipo di misurazione che stiamo facendo, con la grandezza che dobbiamo misurare. E un terzo caso è il difetto proprio di costruzione dello strumento. Quindi nel nostro caso un orologio che non funzionava bene. Gli errori sistematici sono i migliori, se vogliamo dire così, perché se individuati possono essere totalmente o parzialmente corretti. Bene ragazzi, introduciamo adesso il concetto di errore relativo. E per fare questo immaginiamo una situazione. Immaginiamo di essere a una gara di tiro con l'arco. Tra i concorrenti c'è Anna che ha sbagliato 10 colpi su 100 tiri che ha fatto. E Sara che ha commesso 16 errori su 200 tiri. Chi è stata più brava tra le due? Posso con una formula riuscire ad arrivare a dire chi è più brava in questa situazione? Ovviamente devo ricondurre l'osservazione ha un numero uguale di tiri. Quindi devo cercare di vedere quanto Sara ha sbagliato su 100 tiri. E viene fuori che ha commesso 8 errori su 100. Quindi è così facile vedere a questo punto che la vittoria è in mano a Sara. L'operazione che quindi abbiamo fatto per mettere in evidenza l'errore sulla quantità dei tiri fatti è questo. Abbiamo fatto una divisione tra che cosa? Tra il numero degli errori e il numero dei tiri. In questo modo se lo guardiamo matematicamente che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che nel caso di Anna l'errore è stato di 10 su 100 quindi di 0,1 e di Sara è stato 8 su 100 che è uguale a 0,08. L'errore di Sara è più basso dell'errore di Anna. Da qui si può vedere matematicamente che Sara ha vinto. Se non avessimo trasformato i 16 errori su 200 in 8 su 100 non ci sarebbero stati problemi. Avremmo comunque fatto la frazione 16 su 200 e avremmo ottenuto lo stesso numero 0,08. Quello che dobbiamo fare è questo, trovare un'operazione che ci permetta di vedere l'errore in numero matematico nelle misurazioni. Consideriamo ora questa misurazione con la sua relativa scrittura. Vediamo che la misurazione L1 è data da 2 centimetri più o meno 0,5 che è la nostra incertezza e quindi procediamo facendo la divisione 0,5 fratto la misurazione 2,0. Otteniamo come risultato 0,25. Teniamolo un secondo lì e vediamo un'altra situazione. Vediamo di considerare una seconda lunghezza L2 e di procedere nello stesso modo. Quindi prendiamo l'incertezza 0,5 e dividiamola per 14 che è la lunghezza del nostro segmento. Troviamo un numero che è pari a 0,0357. Osservate come è più piccolo il secondo risultato. Questo perché l'incertezza 0,5 centimetri è trascurabile rispetto alla lunghezza che è 14. Mentre invece ovviamente 0,5 centimetri come incertezza su una misurazione di 2 centimetri mi dà ovviamente un risultato più grande. Questi due valori che abbiamo ottenuto si chiamano errore relativo. Andiamo a dare la formula generale quindi dell'errore relativo. L'errore relativo che ci dà informazioni sulla precisione di una misura è il rapporto tra l'incertezza e il valore della grandezza. In formule matematiche otteniamo εr uguale a Δx fratto xm dove εr è l'errore relativo. Δx è la nostra incertezza e xm è il valore che abbiamo misurato per la nostra lunghezza. Questa è la formula che ci permette di calcolare l'errore relativo. Quella e sta per ε e la r piccolina sta per relativo. Facciamo ora due osservazioni. Può essere comodo esprimere l'errore relativo che è un numero puro in forma percentuale. La formula diventerebbe εr percentuale uguale a Δx fratto xm per 100%. Altra osservazione può essere utile scrivere le formule inverse dell'errore relativo. Quindi da yr uguale a Δx su xm possiamo arrivare a dire che Δx è dato dal prodotto di εr per xm mentre xm è la frazione tra Δx e x con r. Ultime tre note prima di iniziare gli esercizi. Nota su εr è un numero puro non ha quindi un'unità di misura. Seconda osservazione εr deve essere minore di 1. L'incertezza deve essere piccola rispetto ovviamente alla grandezza misurata. Terza osservazione su Δx. Δx deve essere minore di xm. Vediamo ora un paio di esercizi. Primo esercizio. Vedete qui un tachimetro e dobbiamo su questo tachimetro individuare diverse cose. La prima parte dell'esercizio mi chiede di vedere l'errore di sensibilità che porta questo strumento. Vediamo che per esempio tra 20 km all'ora e 40 km all'ora dal grafico ci sono 10 tachiche. Quindi per calcolare l'errore di sensibilità vediamo di fare a numeratore 40 meno 20 diviso 10 e troviamo che l'errore di 2 km all'ora. Ora dobbiamo calcolare la misura V1, quella della prima lancetta, quella sinistra. Possiamo dire che la grandezza è 58 più o meno un'incertezza di 2 km all'ora. Vediamo ora la misura V2. La misura V2 corrisponde all'altra lancetta, quella più a destra, e possiamo leggere che la misura è 114, ovviamente più o meno la nostra incertezza. Adesso ci chiede di calcolare l'errore relativo per la prima misura e quindi facciamo 2 fratto 58 e otteniamo come risultato 0,034. Invece l'errore relativo per la seconda lancetta è 2 fratto 114 e otteniamo 0,017. Ora, ultima domanda, cercare di capire qual è tra queste due la misura più precisa. Qui, nonostante abbiamo che le incertezze delle due misure sono uguali, la seconda misura è sicuramente più precisa perché vedete che ha un errore relativo più piccolo. Epsilon V2 è più piccolo di Epsilon V1. Vediamo ora un ultimo esercizio. Trovare tra queste misurazioni la più precisa. T1 è data da 22,8 più o meno 0,2 secondi. T2 è 70 più o meno 0,5 secondi. T3 è data da 110 più o meno 1 secondo. Calcoliamo quindi i tre errori relativi riferiti a ogni misurazione e otteniamo dalla prima delta x, che è l'incertezza della prima misurazione, fratto il valore della misurazione T1, quindi 0,2 diviso 22,8 e abbiamo il primo errore relativo che è 0,00877. Calcoliamo la stessa cosa per T2, 0,5 diviso 75 e otteniamo un errore relativo di 0,00667 e calcoliamo Epsilon di T3, 1 fratto 110 e troviamo 0,00909. Questo ha l'errore relativo più basso e quindi questa è la misurazione più precisa. Perfetto ragazzi, con questo video abbiamo presentato i tipi di errore e il calcolo dell'errore relativo. Nel prossimo video vedremo la propagazione degli errori nelle misure indirette con diversi esercizi. Buona serata, rimanete con me, iscrivetevi e buona fisica!